Ben trovati a questa edizione del TG10 su Olimpia Web TV. Si è giustamente chiesta la solidarietà dell'Europa che è chiamata ad affrontare con un'azione unitaria e solidale la questione dell'accoglienza dei profughi e dei clandestini e tutta l'Italia, il Nord come il Sud, deve fare la sua parte. L'Episcopato regionale della Lombardia ha predisposto un documento nei giorni scorsi con il quale fa appello alle parrocchie, agli enti, alle istituzioni religiose a continuare questo servizio di accoglienza degli emigrati. Peraltro si fa presente che l'Italia accoglie ora 55 mila profughi, mentre in Germania ne sono 600 mila e 200 mila in Francia. Si fa appello alla generosità delle comunità cristiane perché siano chiamate ad alzare lo sguardo e a riconoscere le opportunità che questo fenomeno dell'immigrazione offre alla vita sociale della comunità cristiana. E il problema di oggi è, nello stesso tempo, ci accingiamo a celebrare la Pasqua. Tanti riti, processioni, si ripeteranno in ogni parte d'Italia, che coinvolgeranno tanti fedeli, anche quelli che solitamente non frequentano le parrocchie, ma che comunque, almeno nella Settimana Santa, devono per tradizione partecipare a qualche processione o rito che si tramanda di padre in figlio. Riti e celebrazioni che molte volte lasciano indifferenti chi ne è protagonista. Eppure la Pasqua è una festa importante dal punto di vista spirituale, perché Pasqua significa passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Abbiamo il dramma di gente che desidera vivere in maniera degna la propria vita e lascia la famiglia, il proprio paese, rischiando la vita e attraversando con barconi non sicuri la parte di mare che li separa da una prospettiva di vita migliore. Anche loro fanno un passaggio da un qualcosa all'altro, da una situazione all'altra. Così, lo vogliamo ricordare, tanti italiani, molti anni fa, si imbarcarono sicuramente su navi più sicure, per cercare di trovare una felicità negli Stati Uniti. Un miraggio? Una speranza? Un desiderio? Io dico una legittima aspirazione che l'egoismo di tanti non può struncare. Diciamolo con chiarezza, abbiamo paura di perdere la nostra tranquillità, il nostro benessere, i nostri affari e le nostre abitudini. Ma Gesù, risorgendo dalla morte, ha sconvolto la storia dell'uomo, ha dato una visione diversa della vita dell'uomo, ha sconvolto gli equilibri, ha detto soprattutto che gli uomini sono tutti fratelli e quello che abbiamo non è nostro, ma è di tutta l'umanità. Il cristianesimo, se vissuto veramente, è una rivoluzione culturale che impegna tutti e mette in gioco proprio le nostre sicurezze per far posto ai desideri di Dio, che continua ancora oggi ad inviare lo Spirito Santo, che, lo vogliamo ricordare, lo Spirito Santo è amore. Chi vuole continuare ad essere egoista non potrà celebrare la Pasqua, mentre chi si lascia morire per risorgere a una vita nuova è un uomo pasquale. Dobbiamo allora decidere cosa fare della nostra vita, partecipare, come al solito, ai riti della Settimana Santa e poi rimanere nella morte, o invece approfittare di questa occasione che la Chiesa ci dà per essere più generosi e accoglienti verso i più poveri, verso i miseri, i versi senza tetto, i profughi, gli esiliati, come è scritto in tanti brani biblici. Essere dalla parte di Gesù è una libera scelta, ma deve diventare una scelta di vita e non di morte. Auguri allora a tutti coloro che vogliono celebrare la vera Pasqua. E rimaniamo in tema, parlando ancora della Settimana Santa, ma di una stravaganza che viene dalla Spagna. La Presidente della Regione della Castiglia, la socialista Barreda, ha deciso di cancellare la definizione di Settimana Santa dal calendario scolastico, sostituendola con una confessionale riposo fra il secondo e il terzo trimestre. Ma è stata costretta a fare marcia indietro perché all'opinione pubblica l'idea di Barreda non è piaciuta affatto, perché c'è in gioco l'identità di un popolo dove i giorni pasquali hanno forti radici nella cultura e nella tradizione. E comunque qualcosa di positivo c'è in Europa, perché con una maggioranza schiacciante, 15 a 2, i giudici della Corte Europea di Giustizia hanno rovesciato l'esito di primo grado con un pronunciamento non più appellabile. Il simbolo cristiano non sortisce alcun effetto di indottrinamento degli studenti e quindi non va rimosso dalle pareti delle scuole. Infatti la sentenza di primo grado era scandalosa, ora invece si sancisce che il simbolo religioso non è elemento di parte. Soddisfazione naturalmente da parte degli episcopati di tutta Europa, dei vescovi tedeschi in particolare, mentre il presidente della CEI, Cardinal Bagnasco, sottolinea il buonsenso di un verdetto che esprime valori ampiamente condivisi dalla cultura occidentale. Contro il razzismo dipingiamoci tutti la faccia di nero. Stiamo parlando dell'Italia, vi sembra strano, ma lo ha deciso la federazione italiana di basket dopo gli insulti a sfondo razzista nei confronti della cestista della Geas VI San Giovanni e della nazionale, Abbiola Guabara. Infatti mercoledì scorso, in un paese in provincia di Como, Casnate, durante una gara del campionato femminile di A1, alcuni tifosi della squadra di casa hanno dato addosso ad Abbiola, o Abbiola, non lo so come si pronuncia, chiamandola comunque ripetutamente scimmia. Se la sono presa con lei per il colore della sua pelle. Una storia assurda di discriminazione contro una ragazza che come il calciatore Mario Balotelli è una black italiana, cioè una nera italiana. Abbiola, infatti, è nata 30 anni fa a Parma da genitori nigeriani. E' dunque allarme nel mondo del basket. A partire dagli Stati Uniti, questo sport invece è stato sempre utilizzato come uno strumento di integrazione tra la comunità nera, che vanta i giocatori più forti, e quella bianca. E sono proprio la forza e la bravura di Abbiola che hanno scatenato la follia razzista, ma in una società come la nostra, che è sempre più multietnica, questi episodi non dovrebbero accadere, soprattutto in un luogo di divertimento, come può essere un palazzetto dello sport. La speranza che sta rifiorendo in Giappone dopo lo tsunami si sta alimentando di miracoli che hanno un volto umano. E' il volto del settantenne che si è messo in salvo arrampicandosi sul tetto della sua casa. E' il volto tenero della bambina di quattro mesi tratta in salvo sotto le macerie dopo tre giorni di ricerche. E' il volto eroico di ogni singolo volontario che sta operando nella centrale di Fukushima e che si gioca la vita per salvare quella di tutti, in una lotta contro il tempo, per portare a termine il raffreddamento del reattore. I fatti del Giappone sono un monito che invita a interrogarsi sulla vita e sul destino di tutti quanti. Quando si prende coscienza di quanto sia erroneo fondare il proprio benessere su arroganti ambizioni, su presunte certezze, solo allora si comincia a vivere da veri uomini su questa terra. In questo modo si potrà ancorare la vita su certezze più solide, come per esempio l'amore verso il prossimo, quello stesso amore e quella stessa solidarietà che in questi giorni restituiscono al Giappone il diritto alla speranza per il proprio futuro. Un bel gesto di solidarietà da parte dei parlamentari italiani. Hanno voluto fare un viaggio in Iraq per dare un segnale concreto di vicinanza delle comunità cristiane finite nel mirino del terrorismo. Sappiamo che proprio in Iraq purtroppo ci sono dei problemi per i cristiani. Dopo che tutto il Parlamento italiano aveva preso posizione in sostegno dei cristiani perseguitati in tutto il mondo, è stata quindi una scelta naturale quella di recarsi sul posto per verificare la situazione e soprattutto per dare un concreto segno di solidarietà e di vicinanza. Così come un segno di solidarietà e di vicinanza l'ha offerto il rinnovamento nello spirito organizzando una veglia di preghiera proprio a Lampedusa. Tutti gli occhi fissi sulla croce dei migranti realizzata a Lampedusa con i resti di alcune barche della speranza sulle quali giungono i profughi. Sotto gli occhi delle migliaia di lampedusani presenti alla veglia di preghiera organizzata lunedì 4 aprile in piazza Garibaldi dal rinnovamento nello spirito. Ma erano presenti idealmente anche i 200 mila aderenti al movimento che alla preghiera si sono uniti restando anche nelle loro comunità. Tra le 19 e le 21 di lunedì 4 aprile una lunga catena spirituale ha unito tutte le regioni d'Italia dalle Alpi alla Sicilia. Da segnalare in maniera particolare anche l'iniziativa che si è svolta a Manduria dove sapete era stata realizzata una tendopoli che accoglieva i profughi e anche in Abruzzo per ricordare i due anni del terremoto. Insomma si è trattato di una lunga e potente voce per svegliare le coscienze come ha detto il Presidente Nazionale del Rinnovamento Salvatore Martinez abbiamo pregato perché venga ristabilito il primato di una cultura della pace tra i popoli del Mediterraneo. E' infatti penoso assistere allo sfaldamento della debole coscienza europea e al proliferare di slogan che incitano alla sofferenza e alla indifferenza. Siamo ammirati dallo spirito di solidarietà dall'operosa accoglienza dalla testimonianza di carità che tanti lampedusani e tanti italiani stanno dimostrando e mentre si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia conclude Martinez il nostro Paese deve dimostrarsi degno della propria storia di solidarietà. e sempre rimaniamo nel campo dell'iniziativa del rinnovamento nello spirito sabato 9 aprile è partito il progetto Sicomoro nella casa circondariale di Rieti dopo l'esperienza molto positiva del carcere di opera a Milano è cominciato appunto anche nel carcere di Rieti a cura della Prison Fellowship Italia di cui anche il rinnovamento anima questa associazione dopo che sono stati selezionati alcuni detenuti e alcune vittime del reato sei detenuti prescelti e sei le vittime che parteciperanno in questi due mesi a questo corso solitamente il sabato e il 28 maggio ci sarà la conclusione anche di questa esperienza naturalmente ci auguriamo con risultati positivi e parliamo adesso anche di un'altra iniziativa una cena di beneficenza e non solo organizzata a Villa Baraglia nelle vicinanze del lago di Seo in provincia di Brescia l'occasione era quella di presentare due progetti benefici portati avanti da Claudia Coll a sostegno dei bambini del Burundi e da Paolo Brosio per gli orfani di Međugorje ma durante la cena che ha visto la partecipazione di cantanti come Iva Zanicchi Umberto Tozzi Luisa Corna e personaggi del mondo dello spettacolo e televisivo come Katia Noventa si è parlato anche di Gesù della Madonna di Međugorje e di come la vita di tanti artisti sia stata trasformata dopo aver fatto un'esperienza di fede importante è anche l'apporto di alcuni responsabili del luogo del rinnovamento nello spirito che hanno contribuito all'organizzazione di questa serata che sicuramente rimarrà nei cuore di tanti professionisti imprenditori ecclesiastici e politici che sono intervenuti a questa iniziativa che si chiama Olimpiadi del Cuore e ci richiama un po' anche la nostra emittente Olimpia Web TV più o meno siamo in sintonia perché anche noi cerchiamo di comunicare quello che sentiamo nel cuore qualcosa di bello qualcosa di positivo e ci auguriamo che questa Pasqua sia per tutti voi che ci ascoltate un momento importante perché possiate sentire questo passaggio dall'egoismo invece all'amore Buona Pasqua Buona Pasqua Grazie per la visione!